Mi chiamo Pietro e ho quasi 13 anni. Questa è la mia scuola, il Galileo di Marina Piccola. Questa è la mia classe, la seconda D. Io sono stufa di essere sempre quella che non fa mai errori. Questa è Livia, Miss Perfettina. Questa è Daniele, un tipo a posto. È proprio arrivato il momento di allargarlo, il mio mondo. Isabella e Monica. Le due paladine della giustizia. Ragazzi, silenzio! Marianna, che si crede un po' Miss Universo. Grazie. Daniele e Giulio. E ogni volta ne fa una. Andate a casa a fare i compiti con mamma. Siamo allenati prima noi. Facciamo una sfida vera. Che fatica per dare il primo abbaso. Perché non facciamo una gara? Ma lei smetti di sfidare tutti. So che mi starai vicino quando avremo tutti contro che non mi... Per me è essere molto più di un amico. C'è un patto di sangue non è scritto con l'inchiostro. Ti voglio bene. È una cosa bruttissima. Voler qualcosa ma non poter averla. Ti chiedo come stai, cosa fai, dove fai? Vi ho convocato per una comunicazione. Abbiamo preso la decisione di chiudere la scuola. Mi mancherai. Io ti saremo sempre mia amica. Questa scuola non può chiudere. Ma ti parlo di me E mi fido di te Stiamoci da fare. Pensavamo che fosse impossibile Fare a unire le tue isole, isole Ma siamo solo isole, isole Siamo solo isole, isole Isole Grazie